Istituzione avvio definitivo dei liberi consorsi dei comuni e delle aree metropolitane in Sicilia alla luce delle ultime vicende riguardanti i passaggi dei territori comunali di Gela Niscemmi e Piazza Armerina all'area metropolitana di Catania. Le attese in questo caso sono riposte tutte sul disegno di legge governativo riguardante la ridefinizione dei confini territoriali in Sicilia che dovrà superare adesso lo scoglio del voto in sede di Assemblea regionale siciliana. Il comitato Gelensis Populus si è impegnato attivamente su questa battaglia. Finalmente stiamo vedendo lo spiraglio dell'approdo. Chiaramente questo non ci fa demordere dal tenere alta comunque sempre l'attenzione perché Gelensis Populus vigilerà che l'Assemblea regionale completi con la presa d'atto ma saremo presenti e vigileremo anche sulla fase successiva che ritengo sia quella più importante. A Gela gli esponenti al comitato Gelensis Populus pur manifestando una sorta di ottimismo temono che non siano da escludere eventuali imboscate da parte dei gruppi parlamentari all'Ars che potrebbero pregiudicare l'intero percorso legislativo della legge regionale 15 2015 come fatto ancora più grave di mortificare le aspettative che i cittadini riposero nei referendum. L'appello che noi rivolgiamo è sempre quello di rispettare quella che è stata la volontà popolare. Per buona parte già è stata rispettata. Ci aspettiamo che l'iter trovi il proprio completamento nel più breve tempo possibile e la stessa attenzione e professionalità che le istituzioni hanno dimostrato di avere finora ci aspettiamo che venga mantenuta anche in ordine alla fase successiva che è di non poco conto. Gli esponenti al comitato Gelensis Populus sperano infine che nelle comunità interessati subentri la volontà di dare corso all'individuazione di un processo di autonomia territoriale atto a garantire nel futuro condizioni di sviluppo per i territori interessati di auspici insomma che potrebbero ricadere a beneficio delle comunità di Gela, Niscemmi, Piazza Armerina e anche di Caltagirone. Non ci accontentiamo assolutamente di essere definiti semplicemente come la parte sud dell'area metropolitana. Gela per le sue peculiarità, Caltagirone per le sue peculiarità e Piazza Armerina per le proprie peculiarità nell'ambito di quest'area rivendicano e hanno diritto a mantenere la propria identità e a fare di questa identità la propria forza.